In Brasile si svolgerà dalla settimana prossima per sei giorni un'importante conferenza mondiale sui temi legati alla gestione degli incendi boschivi in un mondo che cambia, questo è il titolo generale, un mondo che cambia soprattutto in relazione al climate change, a cambiamenti climatici. L'obiettivo che si pone questo convegno è quello di diminuire fondamentalmente la vulnerabilità di paesaggi, di ecosistemi e delle persone attraverso una gestione integrata degli incendi boschivi e quindi una gestione che non prende in considerazione solo la fase emergenziale, la gestione dell'emergenza, ma che abbraccia il tema degli incendi a 360 gradi partendo da quelle che sono le cause, le normative, la prevenzione, la previsione, gli indici meteorologici che appunto stanno cambiando in tante parti del mondo attraverso poi quelli che sono gli avanzamenti della tecnologia sulla lotta attiva e il ripristino delle aree. Quindi le tematiche saranno moltissime, saranno presenti la governance pubblica ma anche la componente scientifica e ditte, aziende, professionisti tutti insieme per discutere, scambiarsi buone pratiche, imparare dagli altri e confrontarsi. Ecco, questo penso sia l'obiettivo principale anche per noi che riporteremo come sempre, come da una decina di anni facciamo in vari convegni, riporteremo tutto quello che potrà, si spera, essere utile a migliorare il sistema regionale. Sicuramente ci interessano molto i temi soprattutto della prevenzione e i temi dei problemi legati agli incendi cosiddetti boschivi in aree di interfaccia, cioè a contatto con le zone urbane. Tra l'altro questo sarà il primo di una serie di quattro appuntamenti importanti fino alla fine dell'anno. Altri appuntamenti saranno un convegno in Galles dell'Istituto Forestale Europeo che invece tratterà i temi più su una scala europea, mediterranea, mediterranea ma non solo perché gli incendi in questi ultimi anni stanno arrivando anche all'Europa centrale, all'Europa settentrionale i problemi di Polonia, Germania, Russia, Scandinavia, quindi verranno trattati soprattutto questi temi poi un trex, uno scambio di personale operativo legato alla prevenzione e al fuoco prescritto in Andalusia e infine un importante convegno, un fire camp in Portogallo dove saremo chiamati a relazionare sulle buone pratiche toscane di prevenzione e lotta attiva.